e dalla dv che non era non era fallo evidentemente non era però inoltre di quello ma sì non è la prima volta che noi vinciamo un campionato con sempre con tutto contro assolutamente però questo però però è complicato è complicato vincere perché poi dopo ci mettiamo i nostri errori no? mettiamo i nostri errori dell'allenatore dei giocatori e quindi si vai a sommare questo e quindi stai a un punto dal Madrid con una partita in più con rischio di andare a meno quattro dal 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 Real Madrid ma la partita con l'Atleti è letteralmente ridicola perché se il primo rigore per il Colcioneros è sacro santo la parata di Ter Stegger su Diego Costa è fenomenale è bellissima ed è regolarissima no no ma stava non c'era nessun piede sulla linea esatto no 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 aspetta Alberto facciamo chiarezza su questa cosa facciamo la chiarezza che c'è l'immagine che hanno visto quelli al VAR il VAR in cui ieri in cui c'era Matteo Laoz grande grande nemico del VAR asserisce che il portiere tedesco abbia abbandonato la linea di porta prima del tiro dal dischetto le immagini stabiliscono che il tacco del piede destro del nostro portiere si alza dalla linea quando il tiro è appena stato scoccato va ricordato inoltre che la regola nuova dice che al momento del tiro almeno una parte di un piede deve stare sulla linea di porta e dall'immagine che ci hanno fatto vedere che la stessa che ha visto Matteo Laoz e l'altro al VAR e si vede benissimo che il il tiro già è stato scoccato nel momento in cui nel momento in cui Testegen alza il piede il tallone del piede quindi 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 in questo momento c'è una decisione della del 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 VAR dell'arbitro che sta al VAR quindi dall'immagine si può guardare perfettamente quindi è interpreta non si può guardare perfettamente e quindi è interpretabile e così si va contro il VAR e si ripete il tiro perché è interpretabile perché l'immagine non fa vedere perfettamente lo devi interpretare bene ma si capisce si vede dall'immagine che Diego Costa già ha scoccato il tiro perché il pallone no l'immagine del pallone non è bella nitida eppure Matteo Laoz che è stato lì a guardare a guardare a guardare i millimetri e già sappiamo i millimetri già sappiamo come Matteo Laoz ovviamente se guarda va a guardare contro il Barca ma ho capito ma non si deve fare questo non si deve fare ma la fede è ma la fede e la ma la fede va punita è ma la ma la fede non non il quartiere di Roma ma la fede ma la fede è assurdo sul rigore di Simetro scadiamo veramente nel nel pagliasso più totale nel circo Togni il rigore sul rigore di Simetro i dubbi non ci sono gli viene colpito il piede destro sull'anticipo scusate il rigore di Simetro nel senso quello suo è è giusto ecco io volevo dire questo viene colpito da dal 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 difensore dell'atleti il piede di Simetro mentre insomma e quindi quello è carcio di rigore poi ci sarebbe un possibile carcio di rigore su Pichè che sta davanti al difensore dell'atleti per colpire in porta di testa ma il difensore Colceroni gli sale addosso è lì tutto a posto via va bene andiamo avanti ma la cosa ridicola del circo Togni è il secondo rigore Rochi Blanco quando Carrasco cade da solo in aria inciampando con il piede sinistro sul suo poppaccio destro viene colpevolizzato Simetro che lo incrocia ma non lo tocca non lo tocca stava stava almeno almeno a 30 centimetri esatto è a dir poco scandaloso che il VAR non veda quella cosa non veda quella cosa è a dir poco scandaloso Matteo Lozza che è stato è stato con 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 il microscopio a guardare se testa che ne era aveva 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 il tallone sulla riga non ha visto questa cosa una cosa scandalosa ripeto in mala fede sono in mala fede certo perché non si può non si può non posso credere che l'intelligenza umana possa arrivare a questo o c'è corruttibilità o c'è mala fede una delle due ma sono la stessa cosa la differenza è che se tu sei corrotto perché hai presi i sorti e quindi dicevamo è chiarissimo eppure viene dato il calcio di rigore al al atletico madrid dove se dovevi applicare lo stesso metro di giudizio del rigore valuto a resta che doveva essere ripetuto perché un giocatore dell'atletico già era entrato in aria sì e invece niente 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 come se se contro il varsatuto se contro i rivali niente e quello quello non è nessuna novità adesso è chiarissimo i favori arbitrali del madrid sono chiari hanno fruttato sei punti la vittoria col valenza e con la rialzo dei dadi a noi hanno fatto perdere quattro punti contro il saltavico e contro l'atletico questi sono i fatti poi possiamo discutere chiacchierare dire fare mettere quello e quell'altro questi sono i fatti poi si può chiacchierare c'è un robo grossissimo una ruberia incredibile inoltre di quello noi poi le mettiamo la parte nostra poi le mettiamo la parte nostra esatto arrivano i due pareggi tutte soggiuste le critiche che facciamo alla dirigenza all'allenatore del suo staff ai giocatori ai senatori ma questo gioco orribile che noi stiamo producendo in queste partite però gli errori arbitrali pesano come un macigno certo caro alberto il football è fatto di episodi ci sono gravi errori dell'allenatore sia tattici che di formazione che di cambi anche di gestione del gruppo ma quando i giocatori comandano in un club non si vince mai non si vince e da quando non c'è più lui Sanrique che fanno i padroni con Valverde piano piano gli hanno preso prima un dito poi una mano tutta il braccio tanto che questo anno con Valverde erano più i giorni di riposo che quelli di allenamento e addirittura in Champions si viaggiava direttamente il giorno della partita senza più allenarsi il giorno prima sul campo avversario questo è accaduto a Dortmund questo è accaduto a San Siro a Milano e questo è accaduto anche a Praga perché i signorini preferivano stare una notte a casa invece che in hotel nella città la concentrazione come si chiama anche qui la colpa è della dirigenza che ha permesso tutto questo come dice sempre Alberto in un proverbi argentino sui maiali che dice che c'è la colpa il maiali che gli dà da mangiare e questo è vero e e sono lontani i tempi in cui Luis Enrique a dicembre del 2014 attaccava addosso al muro dello spogliatoio di San Joan de Spie a Piché perché si comportava male fuori e dentro al campo e Piché piagnucolando da Zubi Zarreta che era il direttore del segretario tecnico e da poi Carla Spuyol che era il suo vice e che tutte e due hanno dato ragione all'allenatore e contro al giocatore che piagnucolando da buon da buon borghese dell'alta città della Bonanova e se ne è tornato a casa ma questo non avviene dal 2016 in poi e questo a questo punto siamo arrivati la Liga e il Madrid non può vincere due ligue in dieci anni è un'attentata allo Stato spagnolo alla storia del gran reino di Spagna quindi quest'anno glielo devono far vincere come quella che vinsero nel 2017 e questo anno per quello che si vede lo vinceranno esatto vedremo vediamo di no lo scambio Artur Pjanic 72 milioni più dieci di bonus sono andati a noi 60 milioni più cinque di bonus per la Juve è stato un vero e proprio affare finanziario però dopo entriamo nello specifico a per me già io già mi sono espresso su Artur andava sacrificato e poi io non penso e penso che con noi con Pjanic c'è un affare lo abbiamo affare abbiamo fatto un'operazione finanziaria che purtroppo andava fatta questa benedetta grande plus valenza e Pjanic non è un brocco non è una pippa come qualcuno sta sta volendo farci credere assolutamente no e vorrei precisare alle vedove alle vedove di Artur che ricordo che si accodino alle vedove di Claudio Bravo di Moneimar di tutta questa gente qui che i numeri parlano chiaro Artur in due anni al Barca ha fatto 71 presenze 4 gol e 6 assist e ha collezionato 9 infortuni e a chi delle vedove di Artur lo paragona a Xavi Hernandez io gli ricordo che nelle due stagioni al Barca ha la stessa idea di Artur Xavi affece 98 partite 7 gol 22 assist in un Barca che io vedevo tutte le domeniche al Camp Nou che faceva ride ride eh sì veramente sì chiaro ride se dice a Roma ride va bene e questi sono i numeri di Xavi quelli di Artur sono di un brasuca che gioca con la capoccia la testa e il fisico del campionato paulista esattamente sta giocando e allora sta giocando al gremio e allora e allora andasse andasse dove andasse al gremio d'Italia ecco andiamola così vergognoso è stato l'attacco su piani ci sono alcune dichiarazioni vergognoso che avrebbe detto dieci dodici anni fa di essere di preferire di gioire alle vittorie del Madrid allora noi dovremmo fucilare su a plaza Catalunia sia Luis Enrique per esempio che Lautrup faccio un esempio dei di quelli che più grandi che mi ricordo di Schuster li dovremmo decapitare prendendo la ghigliottina della rivoluzione francese questo questo moralismo del cazzo fa è ridicolo è ridicolo perché quelli che oggi fanno questa cosa non si sono scandalizzati il primo ottobre del di di il famoso primo ottobre quando questa giunta direttiva ha fatto giocare quella partita mentre la polizia spagnola picchiava i manifestanti e gli elettori democraticamente e che nella CAIE il moralismo questo moralismo borghese che si presenta ogni santissima volta io lo ripudio e lo contrattacco da questa etere inoltre inoltre quello che ha detto quel calciatore di Messi vabbè sono cose due carri che lo lascia a te un verme due carri no vabbè io senti io non mi non ha detto ha detto ha detto ha detto ha detto che il che grisman non ha non ha le palle per contrattaccare a un che ha paura ha detto si ha paura di di un moccioso di un metro e cinquanta anche mezzo autistico anzitutto io non voglio mettermi al livello di quel signore perché non voglio mettermi al livello non voglio insultarlo non voglio dire niente voglio soltanto fare una cosa molto semplice quel moccioso di un metro e cinquanta mezzo autistico è anzitutto il miglior calciatore del mondo e l'altro giorno ha fatto il gol numero settecento anzitutto e poi io non vedo che e grisman abbia paura di Messi perché se ti metti a avere il mate con 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 Messi e con suare e allora vuol dire che non hai paura di loro se non non si metteva a mettere avere il mate con loro anzitutto poi quello che vuol dire quel signor che lo dica ormai e e come 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 diceva e come l'ha scritto il grande servante don quixote e lo spero ladrano segnal che cavalgiamo sancio i cani avallano e segno che andiamo andiamo avanti grande alberto grande grande citazione che fa capire che così eh gli si risponde a questo a questo a questo mangiarane e se ti è io continuo a pensarla come quando è arrivato non era un allenatore doveva venire a allenare il bar evidentemente è un allenatore da terza fascia una brava persona pure simpatica sì sì ma totalmente inadeguata al ruolo che ricropre non cioè io io sono convinto che andrà via al ventiluglio finita questa liga andrà via non farà neanche la champions ma se fa la champions ma va via dopo non so chi potrebbe arrivare se ne parliamo c'è una cosa fondamentale e tu non puoi dare il passo più lungo della gamba e e questo signore evidentemente eh come dice te in quel ruolo no non è per quello le hanno le hanno dato le hanno dato un ruolo che che lui che lui e con tutta la buona volontà che può avere non è capace di coprirlo